Come va e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di case popolari. Me lo stavate chiedendo in tanti, me l'avete chiesto in tanti, come fare, come non fare, così oggi vi ho preparato questo video con tantissime cosine interessanti su come fare, come riuscire e come ottenere un alloggio o una casa. Però, prima di iniziare il video, vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Quindi partiamo. Intanto vediamo cosa sono le case popolari che vengono appunto definite popolari. Le case popolari sono in realtà degli alloggi che sono di proprietà pubblica e vengono messi a disposizione dai comuni, dalle regioni o delle province ai cittadini meno abbienti, così che possano prenderli in affitto con dei canoni di locazione veramente molto agevolati e addirittura a dei prezzi che arrivano a raggiungere il valore del sotto il mercato immobiliare. Il modulo con cui si invia la domanda e tutti i requisiti e i tempi di attesa sono diversi da comune a comune o addirittura da regione a regione e dopo vediamo perché. Intanto non è importante essere cittadino italiano o meno perché questo in realtà non è un requisito fondamentale. L'importante ovviamente per gli extracomunitari e avere il permesso di soggiorno e in linea generale essere residenti nel comune dove si fa la richiesta. Poi ci sono dei requisiti minimi per la partecipazione al bando. Partiamo con sono prevalentemente quattro. Primo non essere già proprietari di altri alloggi, non essere assegnatari di altre case popolari, non aver ricevuto degli sfratti da altre case popolari negli ultimi cinque anni e quarto, oppure non aver occupato abusivamente altri alloggi popolari. Una volta che si prende parte al bando viene poi stabilita una graduatoria con un ordine di punteggio in base al quale il comune procede all'assegnazione della casa. Il reddito che deriva dall'ISEE per esempio non è una componente che può agevolare l'assegnazione dell'alloggio ma non è il solo perché anche un altro componente che aiuta molto è il nucleo dei familiari e la presenza o meno di persone con invalidità oppure dei minorenni. Inoltre ci sono anche altre condizioni necessarie come per esempio le famiglie monoparentali che vivono in alloggi di centri provvisori. Per quanto riguarda invece il costo dell'affitto mensile la parte che ci interessa è data proprio dal reddito del soggetto o della famiglia e alle volte ve lo dico il comune può anche chiedere degli affitti che arrivano a massimo 50 euro al mese per un mono locale ma ovviamente tutto questo dipende molto dal comune. Per fare la domanda dipende molto da comune a comune e infatti tutti i comuni non sono uguali uno all'altro quindi intanto vi consiglio di controllare sul sito internet del comune a quale volete fare richiesta la condizione necessaria oppure per chi non è tanto esperto di internet si può semplicemente andare direttamente all'ufficio URP ufficio relazioni pubbliche del comune e chiedere a loro direttamente. Vi faccio un esempio prendiamo esempio Milano e Roma. A Milano e a Roma da quello che so io e alla data in cui sto registrando questo video la domanda può essere fatta solo telematicamente con internet oppure chiedendo al comune si può anche presentare la domanda inviando una raccomandata. E i comuni di solito aprono un bando che dà la possibilità di richiedere un alloggio popolare ma alle volte bisogna chiedere e fare domanda alla regione o alla provincia perché alle volte sono loro che pubblicano il bando e la durata del bando di solito va dai 45 ai 60 giorni ma non tutti i comuni o le regioni o le province prevedono una scadenza quindi è molto importante anche qui controllare sui vari siti internet quando e come e per quanto tempo durano i bandi. Per la presentazione della domanda bisogna avere alcuni documenti di base che possono essere per esempio alcuni che adesso vi elenco ma questo è solo un esempio mi raccomando ecco perché come dico sempre è meglio sempre controllare anche sul sito internet della regione o del comune. Partiamo subito con la carta d'identità e il codice fiscale di tutti i membri del nucleo familiare. La marca da bollo ma questa serve solo se si invia la domanda con raccomandata l'eventuale permesso di soggiorno per gli extracomunitari. La dichiarazione Isee che deve essere valida e non scaduta con la situazione reddittuale del nucleo familiare. Lo speed o la cns carta nazionale dei servizi perché ovviamente invia la domanda via internet e ultimo un eventuale certificato di invalidità per le persone con invalidità. Ma la domanda clou di questo video è quanto tempo bisogna aspettare per avere un alloggio? Vi dico subito che le liste di attesa sono lunghissime addirittura mesi e mesi di attesa e molte volte non si sa nemmeno quando sarà possibile avere un alloggio. Diciamo che nelle grosse città possono passare addirittura anche molti e molti anni mentre invece nelle piccole città forse perché sono un po' più piccoline forse si aspetta un pochino meno. Ma sono solo delle indicazioni da non prendere alla lettera. Questi tempi che vi ho dato sono più che altro per conoscenza o sentito dire. Quindi in definitiva per chi fa domanda di un alloggio o una casa popolare io consiglio veramente di mettersi l'anima in pace e di aspettare. Bene il video finisce qui ti ringrazio per avermi guardato e se hai delle altre richieste di video e vuoi che ti parlo di qualcosa in particolare fammelo sapere qui sotto nei commenti così mi posso organizzare e ti posso preparare proprio un video dedicato qui sul mio canale di youtube e come sempre ricordati di iscriverti anche al mio canale qui sotto e di attivare anche la campanellina così non perderai nessuna prossima novità. Con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube ti aspetto ciao novità. 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 Grazie.